Ieri L'opinionista Alba Parietti, infatti, ha perso le staffe contro Albin ed ha detto una cosa sull'isola che non avrebbe dovuto dire. La padrona di casa Alessia Marcuzzi, infatti, è prontamente intervenuta per bloccare. L'ite tra Alba Parietti e Alba. La prova che ha generato maggiore scompiglio è stata quella che ha visto contrapposte la squadra delle donne e quelle degli uomini. I concorrenti dovevano raggiungere una piattaforma collegata da dei figli delle tele. Tutto il tragitto doveva essere effettuato in totale equilibrio. Nel corso dello svolgimento di tale prova, però, la naufraga su lei ha commesso un'irregolarità. Per questo motivo, i presenti in studio si sono lamentati chiedendo che la prova venisse ripetuta. La prima ad avere qualcosa da obiettare è stata proprio l'opinionista Alba Parietti che, per correttezza nei confronti degli spettatori dell'isola, ha chiesto di rifare la prova. Alessia Marcuzzi, allora, ha informato Albin di quanto stesse accadendo e l'inviato, un po' spazzentito, ha chiesto ai naufraghi di rifare la prova. L'atteggiamento adoperato da Albin, però, non è affatto piaciuto alla Parietti. Per questo motivo la donna ha sbottato contro di lui lasciandosi scappare qualcosa di troppo. Alessia Marcuzzi interrompe lo sfogo di Alba. La donna, infatti, ha letteralmente perso il controllo ed ha detto di aver espresso solo una sua opinione. Il suo ruolo e quello di Alba De Usano serve proprio a questo. L'opinionista ha, infatti, sbottato così. Possiamo dire anche la nostra o siamo qui per prenderci solo mea in faccia? Albin ha completamente ignorato l'uscita della Parietti anche perché la conduttrice Alessia Marcuzzi l'ha prontamente interrotta. La donna, infatti, ha più volte invitato l'opinionista a smettere di dire quelle cose. Effettivamente, lo sfogo della Parietti sembra proprio sia stato dettato da una rabbia repressa. Cosa sarà successo dietro le quinte del reality show in queste settimane? Molto probabilmente lo sfogo dell'opinionista è riferito a tutto quello che è successo a Riccardo Fogli per cui ci sono andati di mezzo tutti i membri del reality. Lei compresa. Tutto può essere, fatto sta che Alessia Marcuzzi ha impedito ad Alba Parietti di continuare.